Picchia la moglie per di più davanti ai figli minorenni, denunciato e accaduto a Rapallo. Ruba tre collane d'oro, un marocchino di 21 anni le strappa dal collo di una camogliese a Rapallo. Domani sciopero dei treni, dalle 9 alle 17 circoleranno regolarmente tutte le frecce e disagi invece per i regionali. Lunedì i lavori, fronte mare di Riva Trigoso, a fine mese invece quelli del Nuovo Ponte. Skateboard al Parco Tiguglio, pista inaugurata questa mattina a Lavagna. Domani il triathlon a Sesti Levante, percorso complessivo di circa 84,5 km che toccherà anche l'entroterra con Casalza Ligure e Velva. Per ritrovati dal TG Tiguglio, apriamo con la cronaca il marito con cui si stava separando la Picchia davanti ai figli minorenni per di più. È accaduto a Rapallo. Nei giorni scorsi una 48enne di Rapallo presentava presso la locale stazione dei Carabinieri una denuncia querela nei confronti del proprio conugi. In fase di separazione, un 43enne con pregiudizio di polizia, che la sera del 9 settembre scorso, dopo una violenta lite alla presenza tra l'altro dei figli minorenni, le aveva procurato lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in 30 giorni. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali gravi, mentre la vittima è stata resa edotta della possibilità di rivolgersi ad un centro antiviolenza cittadino. Proseguiamo con la cronaca. La cronaca aveva rubato l'8 settembre scorso nel porticciolo turistico di Santa Margherita Ligure. Due biciclette ad Eddie Irvine, ex pilota della Ferrari Irvine, olandese, che oggi ha 50 anni ed è stato pilota del Cavallino dal 1996 al 1999. Ha vissuto questa esperienza diciamo amara, però i carabinieri hanno individuato tre quindicenni tutti i residenti a Milano, studenti ritenuti responsabili dei furti delle due biciclette non assicurate del valore di 1.500 euro. E torniamo a Rapallo, ancora cronaca perché un giovane originario del Marocco ha strappato tre collane d'oro ad una donna di 67 anni che passeggiava per Rapallo. A Rapallo, ieri nel pomeriggio, una 67enne pensionata, abitante a Camogli, denunciava presso la locale stazione dei carabinieri che verso l'ora di pranzo del 10 settembre scorso, mentre si trovava a piedi in via Torino, uno sconosciuto le strappava dal collo tre collane in oro per poi scappare. Immediata l'attività investigativa dei carabinieri, svolta anche mediante l'ausilio di apparati di videosorveglianza, che consentiva ai militari di identificare e poi rintracciare l'autore del reato, un marocchino di 21 anni con pregiudizi di polizia. Perquisito veniva trovato in possesso della reflutiva quantificata in 1.000 euro, poi restituita alla legittima proprietaria. Il giovane invece è stato deferito in stato di libertà per rapina persona. E dalla cronaca passiamo a notizie di servizio. La prima ripartirà dopo domani, ovvero lunedì, il servizio di controllo dei funghi attuato dall'ASL 4 Chiavarese per evitare che vengano consumati i funghi velenosi. Per il pubblico il controllo è gratuito sino al 31 ottobre e si svolge. A Chiaveri, in consulante 163, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 e il sabato dalle 8.45 alle 9.45. A Rapallo, in via Venezia 41, martedì e giovedì dalle 7 alle 9 e sabato dalle 7 alle 8. Per gli operatori commerciali il controllo è obbligatorio e a pagamento, ma luoghi orari sono gli stessi. Ulteriori informazioni possono essere chieste dai commercianti contattando l'ispettorato micologico di Chiavari, telefonando allo 0185 32 90 96 o mandando una mail all'indirizzo sicalchiocciolaasl4.liguria.it Ferrovie italiane, sciopero di domani, frecce regolari, modifiche invece all'offerta regionale. Treni, in occasione dello sciopero programmato dalle 9 alle 17 di domani, circoleranno regolarmente tutte le frecce Trenitalia. Nel trasporto regionale Trenitalia è impegnato ad offrire, in particolare sulle linee a maggiore frequentazione, un numero di corse il più possibile adeguato alle esigenze della mobilità festiva. Il tutto nel pieno rispetto dei diritti del personale, utilizzando quello non aderente allo sciopero, muovendo dal fatto che nelle giornate festive la legislazione non prevede servizi minimi da garantire. In Liguria le effettuazioni saranno concentrate sulle linee a maggior frequentazione festiva. In particolare si prevede che circolino la metà dei treni, uno su due, sulle linee la Spezia Sestilevante, Sestilevante Genova, Savona 20 miglia e Genova 4 a Scrivia, ed un treno su tre sulla linea Genova-Savona. Informazioni sui collegamenti e servizi si potranno ricevere nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie. Sul sito internet viaggiatreno.it sarà infine possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei treni sull'intera rete nazionale. La circolazione veicolare lungo la provinciale 68 del Faciù all'altezza del Comune di Moneglia sarà vietata da dopodomani, ovvero lunedì 14 settembre, fino a venerdì 25 settembre per eseguire lavori di consolidamento del corpo stradale. E concludiamo con una notizia che riguarda la televisione, perché la città di Rapallo è protagonista di un programma di Rai 2. Vediamo quale. Rapallo contro Amalfi e la sfida di oggi e domani alla trasmissione di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia in onda dalle 11 alle 13 condotta da Amadeus con Alessia Ventura, Paolo Fox e il maestro Gianni Mazza. Una squadra di 12 rapallesi, 6 uomini e 6 donne è dunque impegnata a Roma presso gli studi Rai di Via Teolada. La squadra vincente passa il turno e sfiderà un nuovo comune il weekend successivo. A fine torneo il comune vincitore si aggiudicherà una scuola bus. La squadra di Rapallo è composta da Paola Nicolini, caposquadra 42 anni, Celeste Modena, 20 anni, Elena Mei, 39 anni, Manuela Chiccoli, 35 anni, Marco Casella, 41, Andrea Del Pino, 30 anni, Tavatis Cati Gesù, 24 anni, Michele Bianchi, 21 anni, Emanuele Queirolo, 24 anni, Elena Ventura, 28 anni, e per finire la coppia di ballerini Luca Faravelli, 21 anni, e Nicole Bigoni, 19 anni. Durante la trasmissione anche il pubblico da casa potrà partecipare per mezzo del televoto e sostenere quindi la squadra preferita nei giochi a giudizio. Da telefono fisso si può comporre il numero 894433, da telefono cellulare inviare un sms con il numero 2 per votare Rapallo al 478 4784. Nella città invece Ruentina arriverà Elena Ballerini con la trupperai per i collegamenti dalla piazza della Rosa dei Venti sul lungomare. Seconda parte del TG Tiguglio, frontemare di Riva Trigosa, a fine mese iniziano i lavori di costruzione del nuovo ponte nella frazione del comune di Sessi Levante. Vediamo. Riprenderanno dopo domani, lunedì, i lavori di spostamento del sistema di sollevamento fognario in piazza Brigate Partigiane nella frazione di Riva Trigoso, sponda a sinistra del torrente Petronio, nel comune di Sessi Levante. Ad oggi è infatti stata completata la posa in opera della vasca di raccolta dei liquami reflui prodotti in zona Riva Levante e stanno partendo i lavori di installazione delle apparecchiature di pompaggio. Da lunedì si procederà a realizzare le nuove tubazioni in ingresso di collegamento tra le reti fognarie esistenti e la nuova vasca di raccolta per le quali sono previsti scavi della profondità varia. Gli scavi saranno realizzati tra il sito della nuova vasca, via Colombo, e la strada di accesso alla sede dell'ufficio locale marittimo. In tale area, durante l'esecuzione dei lavori, sarà consentito il transito veicolare, mezzo inferiore a 35 quintali, e pedonale regolato in corsie da apposite transenne. Il mercato settimanale del lunedì a Riva sarà parzialmente spostato sul lungomare in modo da garantire adeguati spazi e sicurezza vista la presenza di scavi e macchine operatrici. Tali lavori, che si prevede siano terminati alla fine del mese di settembre, sono propedeutici all'avvio dell'intervento di realizzazione del nuovo punto carrabile e passare alla ciclo pedonale, il cui cantiere sarà installato e allestito a partire da lunedì 21 settembre. Cambiamo argomento, viste le previsioni meteo non favorevoli per domani, domenica, il circolo della Pulce insieme agli altri organizzatori informa che è stata rinviata la prossima domenica 20 settembre la giornata denominata Bambini in libertà oltre i pastelli e le note. La manifestazione si svolgerà sempre nelle piazze Garibaldi, da Vico, del Pozzo e dei Gasperi dalle 10 e mezza fino alle 18 e 30. E ora parliamo di basket, anzi di skateboard, scusate, è sempre uno sport che viene dagli Stati Uniti e c'è una grande opportunità a Lavagna per gli appassionati. Vediamo. Per gli appassionati di skateboard c'è una novità importante a Lavagna, precisamente al Parco Tiguglio. Innanzitutto oggi e stamattina siamo qui per vedere che è stata realizzata un'opera che era stata, a dire la verità, iniziata da prima, quindi dall'amministrazione precedente. Noi l'abbiamo completata e adesso la consegniamo ai giovani. Lo facciamo volentieri anche perché, secondo me, attrezzandolo anche per un servizio diciamo di sera, possiamo evitare l'uso così promiscuo che avviene. Intanto rendiamo accessibile, fruibile questa zona anche del territorio comunale e vedremo un po' di potenziare anche sotto l'aspetto ludico sportivo un po' tutto per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei giovani anche perché non dimentichiamo che poi un'amministrazione deve un po' curare i desideri di tutte le categorie quindi è giusto anche andare incontro a quello che i giovani desiderano. L'idea in realtà è della precedente amministrazione che, anzi, per meglio dire è stata presentata da questi ragazzi sette anni fa. La precedente amministrazione aveva ottenuto un finanziamento per realizzarla purtroppo non hanno più concretizzato nulla e alla fine dell'anno scorso il finanziamento veniva ritirato dalla regione siamo intervenuti per recuperarlo e quindi oggi finalmente gli possiamo dare questo risultato sono felicissimi i ragazzi addirittura si sono prodigati per aiutare il costruttore nella realizzazione qualche giorno fa già fino a notte fonda continuano a utilizzarla per cui siamo proprio contenti. E rimaniamo a Lavagna perché gli insegnanti del comprensivo hanno deciso di festeggiare in un modo nuovo e particolare l'inizio del nuovo anno scolastico infatti come spiega il dirigente Francesco Conevò lunedì gli alunni del corso musicale dei loro professori daranno il benvenuto in musica agli studenti prima alla scuola secondaria e poi alla primaria Riboli insomma per dare un po' di allegria nel primo giorno di scuola che notoriamente non è una bella giornata per gli studenti. Passiamo adesso allo sport triathlon medio di Sesti Levante domani il via vediamo il percorso. Si correrà domani all'incirca tra le 11.55 e le 15.51 lungo un percorso complessivo di circa 84 km e mezzo che parte e termina da Sesti Levante e che interessa oltre che il territorio spezzino anche strade provinciale della città metropolitana di Genova la frazione ciclistica del triathlon medio di Sesti Levante competizione sportiva organizzata dalla triathlon Genova. Il tratto che interessa la città metropolitana di Genova perché in gran parte percorre la strada provinciale 523 è quello iniziale e al ritorno finale che parte da piazza Matteotti a Sesti e raggiunge in circa 22 km il santuario di Velva in comune di Castiglione Chiavarese al confine con la provincia di La Spezia passando anche per il territorio del comune di Casarza Ligore. Il tempo di percorrenza previsto è di circa 36 minuti all'andata partenza del primo atleta da Sesti alle 11.55 dell'ultimo atleta alle 12.30 quando il primo è a Velva al ritorno passaggio del primo atleta da Velva alle 13.33 con arrivo a Sesti previsto per le 14.09 e dell'ultimo atleta alle 14.57 con arrivo previsto nella città dei Due Mari alle 15.51 E rimaniamo in Val Petronio sempre a parlare di sport a Moneglie invece perché Gianrico Semorile ci parla della gara nazionale per Gozzi in vetroresina ultimo banco di prova per i campionati italiani in programma la prossima settimana a Genova ascoltiamo Giove Pluvio premettendo è in programma per domani pomeriggio nelle acque antistanti in Moniglia una gara per Gozzi in vetroresina questa si configura come gara nazionale ultima prova prima dei campionati italiani assoluti in disputa la prossima fine settimana a Genova un appuntamento remiro di rilievo con organizzazione a cura dell'associazione sportiva a Moniglia che chiama a sé annualmente equipaggi poi sicuri protagonisti nella vetrina per il titolo nazionale è questo anche il penultimo appuntamento con il canottaggio a sedile fisso nel nostro comprensorio la chiusura della stagione agonistica è prevista domenica 27 settembre con il superpaglio della regione Liguria a San Michele di Pagana tornando alla prova in programma domani a Moniglia prevede la disputa delle batterie a partire dalle ore 15 mentre a partire dalle ore 16 nell'ordine si disputeranno le finali categoria Juniors Femminile e Signores e con questa notizia si conclude il nostro telegiornale io vi auguro un buon proseguimento di serata e vi auguro anche un buon weekend e vi auguro